Partito! Appertura e scusura del cangello e va al suo terzo ostacolo che è il parel, affronta il primo pilone a mano destra, il secondo a mano sinistra e il terzo a mano sinistra. Ok, va un po' di giù con la spalla ma si corregge e affronta la Frettoia. La Frettoia va velocissimo al suo prossimo ostacolo da eseguire che è libero, quindi lo potete dire sia a mano destra che a mano justa. E lo fa perfettamente signore, fa una bellissima prova e si vola, si vola col pendidi. Un ottimo freno, cambia, cambia, Galopo vai, vai. E si ritorna, si ritorna, penso l'ultimo esercizio, il quadrato è suo, non lo può sbagliare, se no lo facciamo fuori dalla regione. E chiude, chiude con un tempo di 1.24.31 signori. 10 secondi penalità per lui. No, 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 no. No, no, no.